Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Liliana Resinovic è scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, lasciando molte domande senza risposta. Il caso ha coinvolto persone vicine a lei, con la polizia che ha esaminato i telefoni del marito, Sebastiano Vicentina, e di Claudio Sterpin, presunto amante, nel tentativo di chiarire eventuali connessioni con la sua scomparsa. La famiglia, in particolare il fratello, è convinta che ci sia stato un coinvolgimento di terzi e rifiuta l'ipotesi del suicidio proposta dagli investigatori. Recentemente, un vicino ha dichiarato di aver visto Liliana salire su un'auto con una persona che sembrava conoscere bene poco prima della scomparsa. Ha inoltre aggiunto che potrebbe esserci stato qualcuno che, per motivi personali, ha agito con violenza e rabbia. Il caso è stato trattato nella trasmissione quarto grado, dove sono state condivise informazioni raccolte da conoscenti di Liliana, ritenute utili per l'indagine. La sorella di Liliana ha sottolineato che, sebbene la donna stesse attraversando un periodo difficile, non era così turbata da togliersi la vita. L'indagine è resa complicata dalla mancanza di elementi certi riguardo al giorno e alle circostanze del decesso, sebbene l'ipotesi di un omicidio rimanda aperta. Sebastiano Vicentin, il marito, ha fornito la sua versione dei fatti, ma gli investigatori stanno ancora indagando su alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni. L'analisi delle immagini di sorveglianza potrebbe fornire dettagli cruciali sugli ultimi movimenti di Liliana. Le autorità stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore per capire se avesse in programma un incontro o se ci fossero stati contatti sospetti nelle sue ultime interazioni.